vaccini per over 80 nelle marche si comincia il 20 febbraio scuola di via fermi domani primo screening agli studenti di una primaria ex convento di via guidi e polemica sulla demolizione canale genica ripulita la bocca dell'acquedotto romano a muraglia martedì 9 febbraio buona serata benvenuti al nostro telegiornale l'appuntamento fisso su rossini tv con tutte le notizie della giornata di oggi allora apriamo questa edizione parlando dei vaccini perché oggi la regione ha presentato il piano vaccinale per i marchigiani che hanno più di 80 anni si comincerà il 20 febbraio come vi viene illustrato in questo primo servizio con qualche giorno di attesa rispetto ad altre regioni ora anche le marche inaugurano il piano vaccinale per le persone sopra gli 80 anni di vaccini ne erano già stati somministrati circa 9.000 fra ospedali e residenze per anziani ora dal 20 febbraio si garantirà il vaccino anche ai restanti 125.000 ultraottantenni marchigiani l'assessore regionale alla sanità filippo saltamartini assieme al governatore francesco acquaroli ha illustrato oggi in conferenza stampa modalità e tempi di questo piano vaccinale dalle ore 14 di venerdì 12 febbraio ci si potrà prenotare attraverso il sistema telematico delle poste o chiamando il numero verde 800 009 966 dopodiché le vaccinazioni cominceranno il 20 febbraio e si protrarranno circa 20 giorni considerando di concludere la fornitura attuale delle fiale pfizer e moderna attorno al 5 marzo dopo 21 giorni poi scatterà il richiamo al vaccino all'utente che si prenoterà sarà notificato appuntamento e luogo della vaccinazione luoghi che sono di fatto gli stessi dello screening di massa la vitri friguarena pesaro il codma a fano e il pala carneroli a urbino i vaccini saranno somministrati dalle ore 8 alle ore 20 le persone che non sono in grado di diambulare o di essere accompagnate riceveranno la vaccinazione direttamente dall'asur mediante i medici di medicina generale dopo pfizer e moderna oggi la regione marchi ha anche ricevuto i primi 6.300 flaconi delle vaccino astrazeneca che saranno invece destinati a persone che lavorano in servizi essenziali dal personale scolastico i docenti alle forze dell'ordine fino alla polizia penitenziaria intanto come ben sapete i vaccini hanno già cominciato ad essere somministrati in case di riposo e residenze per anziani fra queste c'è anche santa colomba che fra i suoi gestori ha la cooperativa labirinto il presidente davide mattioli ci aggiorna su una struttura che sta tornando a regime dopo le tante problematiche legate chiaramente al covid 19 le crisi di città hanno fortemente limitato le attività della stessa cooperativa noi abbiamo circa la metà dei nostri servizi che sono servizi di tipo educativo legati comunque alle scuole ai calendari scolastici il fatto che buona parte delle scuole abbiano mantenuto comunque l'apertura ha permesso anche a noi di garantire la continuità del lavoro a buona parte dei nostri soci i servizi che oggi subiscono di più e hanno subito di più in quest'inverno la seconda ondata sono i servizi per anziani come molti sanno quindi quelli in particolare di strutture che ospitano anziani con diversi gradi di autonomia o di malattia che come noto sono stati interessati dalla seconda ondata di contagi e quindi anche da alcuni decessi comunque dalla difficoltà a fare nuovi ingressi e anche molti operatori nostri in queste strutture si sono ammalati come molti erano stati nella prima ondata e questo chiaramente oggi ci mette in difficoltà da quel punto di vista e ci impedisce anche di così fare una vera e propria pianificazione per i prossimi mesi mesi in cui la struttura di santa colomba la residenza per anziani è stata pesantemente colpita da questo covid 19 voi siete tra i soggetti consorziati nell'erogazione dei servizi è passato il peggio in questa in questa struttura possiamo guardare con più ottimismo sì in realtà qualche nuovo ingresso già avvenuto in questi giorni in effetti oggi siamo in un momento in cui anche la seconda ondata dentro le strutture di santa colomba sembra avvolgere il termine diciamo che non ci esponiamo non ci sbilanciamo magari anche solo dal punto di vista scaramantico perché anche dopo la prima speravamo di riuscire indenni diciamo così da nuovi nuovi problemi invece così non è stato in questo momento sia nel personale che nell'utenza negli ospiti ormai casi positivi sono ridotti a pochissime unità e tra l'altro la struttura permette come previsto da procedure anche il totale isolamento di queste persone per cui tutte le altre stanno in una situazione di totale sicurezza certo fatto sempre salvo il rischio che qualcuno da fuori tendenzialmente possa portare il virus però la tendenza nazionale anche nella nostra città è comunque verso il miglioramento per cui noi stiamo puntando chiaramente nel giro di poco sul riprendere gli ingressi e riportare la struttura verso il riempimento che era la sua condizione naturale quando un anno fa era piena c'era una lunga lista d'attesa perché comunque si tratta di una struttura molto apprezzata dalla cittadinanza e dai vaccini ai tamponi continuano gli screening nelle scuole di Pesaro dopo quelli effettuati negli istituti superiori nelle ultime due settimane domani per la prima volta saranno chiamati al tampone insegnanti e bambini di una scuola primaria continuano i tamponi nelle scuole della città di Pesaro dopo l'operazione scuole sicure conclusa la settimana scorsa negli istituti superiori della città di Pesaro un'operazione voluta proprio dall'amministrazione comunale della città domani scatta per la prima volta in via eccezionale anche uno screening nelle scuole inferiori e principalmente nella scuola primaria di via fermi quella che vedete alle mie spalle scuola che a quanto pare negli ultimi periodi è stata soggetta a diversi casi di positività al covid-19 prima tra i bidelli poi tra gli insegnanti si è arrivati a diverse classi in quarantena fino ad arrivare agli uffici amministrativi dove sei addetti su nove sono attualmente in quarantena alla dirigente dell'istituto comprensivo leopardi lucia nonni abbiamo chiesto il quadro attuale della situazione attualmente abbiamo una classe una sezione della scuola dell'infanzia di via fermi che in quarantena poi abbiamo altre tre classi in quarantena della scuola primaria di via fermi per quanto riguarda il resto diciamo che attualmente il focolaio riguarda il personale scolastico quindi docenti in minima parte ancora e molti collaboratori scolastici assistenti amministrativi per verificare se insomma questa situazione si sia estesa anche alle classi e docenti quindi con eventualmente la presenza di soggetti asintomatici abbiamo richiesto all'ASUR di poter effettuare uno screening con dei tamponi antigenici per tutti i bambini del plesso scolastico di via fermi che è composto circa da 300 alunni e anche per il personale dell'istituto perché chiaramente poi ci sono anche docenti che sono itineranti su più plessi e quindi abbiamo avuto il parere positivo da parte del dottor liverani quindi domani partiremo presso la palestra di via fermi con questo screening su base volontaria e ci sarà una fascia oraria dedicata al personale scolastico e poi ci sarà diciamo una scansione oraria per permettere ai bambini accompagnati dai genitori di poter effettuare il tampone si tratta di un test su base volontaria ma il nostro invito è quello di accogliere in modo massivo questa effettuazione del tampone proprio per cercare di andare a scremare individuare eventualmente persone che non sono sono asintomatici ecco quindi poter avere una fotografia un pochino più chiara della situazione che riscontro avete avuto da parte delle famiglie e degli studenti per questa possibilità? Allora io sono in continuo contatto naturalmente con le famiglie che sono molto preoccupate per questa situazione e hanno attualmente io ho delle risposte molto positive da parte di tutti chiaramente non ho ancora i numeri definitivi perché vedremo domani sul campo quanti effettivamente decideranno di aderire però credo che il personale aderirà naturalmente al 100% io stessa mi sottoporò nuovamente al tampone e credo che ci sarà una alta partecipazione da parte di tutti gli alunni e di tutte le famiglie ecco Uno screening dunque nato su richiesta dell'istituto Leopardi all'Asur che ha avallato questa scelta dello screening che parte dunque domani a partire dalle 13 si comincerà con il personale scolastico e poi i ragazzi delle scuole, i ragazzi under 14 appunto della scuola primaria accompagnati dai loro genitori saranno sottoposti al tampone che naturalmente è su base volontaria Buone notizie per quanto riguarda i dati che ci vengono dalla regione Marche riguardanti proprio il covid-19 presentano un rapporto positivo testati sceso all'8,2% nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 5.108 tamponi di cui 3.302 nel percorso nuove diagnosi 270 i casi positivi rilevati, solo 37 in provincia di Pesaro Urbino per quanto riguarda i ricoverati sono attualmente 616 pazienti in degenza nelle Marche di cui 74 in terapia intensiva Dalla conferenza Stato-Regioni è previsto un nuovo stanziamento ministeriale di 55 milioni di euro per la realizzazione del project financing dell'ospedale unico Pesaro Fano a Muraglia ed ora Acquarolli rifiuterà pure 55 milioni si chiede attraverso una nota la parlamentare del PD Alessia Morani la giunta regionale aveva infatti espresso contrarietà a un nuovo polo ospedaliero da 600 posti esprimendosi a favore di un progetto ridimensionato con risorse regionali ed ora parliamo di un edificio della città di Pesaro che pare destinato all'abbattimento si tratta dell'ex convento delle suore francescane di via Guidi edificio che è al centro di una diatriba politica fra centro-sinistra e la Lega che invoca la conservazione così come l'ex difensore civico Antonio Calma che ha acceso i riflettori su questo edificio destinato a sparire questo fabbricato che secondo me è di pregio e forse per le caratteristiche che ha Architettoni che è l'unico a Pesaro perché è molto bello intanto va detto che la struttura è assolutamente intatta non ci sono problemi di stabilità poi è molto bella perché questi mattoncini perfettamente conservati hanno la caratteristica di essere di due colori e le finestre sono ad arco poi c'è questa torre in mezzo bellissima e quindi è chiaro che ristrutturare questo fabbricato conservando la facciata che secondo me come ho detto è assolutamente conservata però comporterebbe un guadagno inferiore perché buttare giù e ricostruire è chiaro che è molto più semplice si spende di meno e ci si impiega molto meno tempo però poi secondo me riveste le caratteristiche di una fra virgolette speculazione edilizia perché si fanno degli appartamenti questo viene dai piani di ristrutturazione io naturalmente non ho gli atti del comune ma è una cosa che è stata approvata ed è prevista pure questa demolizione però secondo me fino a che l'operazione non viene portata a compimento ci sono ancora e c'è tempo e modo per poter porre un rimedio mi ha fatto piacere che si sono mossi sia a livello partiti non mi interessano le diatribe politiche io sono intervenuto proprio come cittadino ma anche Italia Nostra che mi risulta sta raccogliendo le firme sta interessando la sovrintendenza perché contrariamente a quello che si diceva questo fabbricato ha più di 70 anni e quindi secondo le norme attualmente in vigore andrebbe tutelato e poi un'altra cosa che non capisco questa differenza fra questo palazzo e il palazzo dell'Enel che è qui vicino che ha delle caratteristiche non analoghe ma simili nel senso che è in mattoncine ma è molto diciamo di meno pregio e fra l'altro è messo anche male mi sembra, così ho sentito poi non ho la conferma che è stato deliberato di mantenere la facciata il palazzo dell'Enel, ripeto di meno pregio mentre questo andrebbe abbattuto quindi mi pare una cosa che non regge insomma io chiedo che le forze politiche senza far polemiche intervengano a partire dal sindaco Ricci per poter porre appunto come dicevo prima un rimedio perché è una struttura che merita di essere salvaguardata siamo a 200 metri dal teatro Rossini siamo in pieno centro storico cioè buttata giù questa struttura non avremo più questa tipologia urbanistica a Pesaro e questo a me come cittadino, ripeto, dispiace molto domani è il 10 febbraio e si celebra il giorno del ricordo per non dimenticare il dramma delle foibe di cui furono vittime migliaia di italiani durante e dopo la seconda guerra mondiale il comune di Pesaro proporrà in diretta a Facebook dalle 9.30 testimonianze e ricordi che hanno contrassegnato questa pagina di storia italiana dopo la zona gialla che ha consentito la riapertura dei musei il direttore provinciale di Confcommercio Amerigo Varotti invoca a gran voce anche la riapertura nei weekend e non solo nei giorni feriali una limitazione ritenuta inaccettabile per i musei della provincia che ricevono visitatori principalmente nel fine settimana il Carnevale di Fanno che quest'anno si svolgerà con eventi esclusivamente in streaming ha ufficializzato l'immagine della sua edizione 2021 realizzata da Carlo Simoni si tratta di una rielaborazione del Voulon collocata fra alcuni dei luoghi più iconici della città della Fortuna si chiama Solidarietà in Circolo l'iniziativa di raccolta di indumenti caldi per persone senza fissa dimora una raccolta di giubbotti, felpe, guanti o sacchia pelo organizzata dal Partito Democratico di Pesaro e dalla Croce Rossa fino a domenica 14 febbraio dalle 18 alle 20 i cittadini potranno portare indumenti ai circoli PD di via Dandolo 8, via Salvatore 17 e accanto al bocciodromo Duilio Fabi di Santa Maria delle Fabrecce e nel weekend appena trascorso il neonato comitato per la tutela dell'acquedotto romano e della necropoli di Pesaro ha realizzato un'opera di pulizia del canale genica nel tratto cittadino di Muraglia dove è presente la bocca dell'acquedotto romano ancora funzionante un intervento a tutela di un patrimonio storico della città poco conosciuto che vi mostriamo grazie appunto a questo video realizzato da Franco Terenzi e inviatoci dal nostro telespettatore Alessandro Adimari e allora chiaramente grazie ad Alessandro per le segnalazioni vi ricordiamo sempre di mandarci i vostri video le vostre foto i vostri messaggi sul nostro numero di Whatsapp che vedete appunto in sovrimpressione e ora ci spostiamo a Fossombrone dove è stata restaurata l'antica balaustra in pietra arenaria all'interno di Palazzo Kanji un recupero molto atteso come ci spiega in questo prossimo servizio Simone Celli L'attesa è finita è stata finalmente restaurata l'antica balaustra in pietra arenaria che limita l'affaccio del primo piano di Palazzo Kanji a Fossombrone quella che dà sul cortile delle Grazie e che ora trova una seconda giovinezza grazie al lavoro degli scalpellini di Sant'Ippolito un intervento necessario che rende più bella e più sicura l'intera location dove si trova niente meno che la casa-museo e quadreria Cesarini meta ogni anno di tantissimi visitatori La balaustra versava in condizioni assai precarie era addirittura a rischio crollo per cui due campate sono state interamente smontate e consolidate e successivamente rimontate Il recupero è importante perché oltre ad averci restituito un manufatto è estremamente importante anche dal punto di vista artistico però è importante la balaustra perché tramite la simbologia raldica tramite le iscrizioni che su di essa sono riportate ci restituiscono la storia del palazzo e dei suoi antichi abitanti È un ulteriore tassello per la riqualificazione e la modernamento della quadreria Cesarini questa casa-museo che è il fiore all'occhiello della città di Fossombrone Sappiamo benissimo che ancora ci sono molti lavori da fare soprattutto nel piano superiore per renderlo perfettamente agibile e visitabile ma già oggi con questo restauro si completa il primo piano il piano nobile dove sono conservate le opere di Anselmo Bucci e non solo e dove ovviamente viveva in un taio Cesarini Devo dire che l'amministrazione comunale in questi cinque anni ha lavorato molto mettendo come primo obiettivo proprio la riqualificazione e la valorizzazione della quadreria Cesarini questa casa-museo straordinaria una delle eccellenze marchigiane che invito tutti i marchigiani a visitare approfittando anche del fatto che oggi con la zona gialla è possibile uscire insomma anche dai confini comunali e provinciali e visitare questa eccellenza assoluta dell'arte marchigiana Quanto è importante questo recupero per la città di Fossombrone? Beh, molto importante come tutti i recuperi fatti in questi anni questo museo, la quadreria Cesarini per noi è un gioiello inestimabile devo dire piace moltissimo, molto visitato quindi noi abbiamo cercato in questi anni di metterlo al meglio possibile La Balaustra fa parte del palazzo dalla sua nascita quindi è qui dal 1580 e aveva bisogno di un restauro importante quindi per questo ringrazio assolutamente la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro che in toto si è presa a carico del restauro quindi è stato un restauro anche abbastanza impegnativo e oggi la possiamo vedere nel suo splendore e devo dire anche che è stata restaurata tramite l'Art Bonus quindi questo sistema del Ministero dei Beni Culturali che abbiamo messo in piedi anche nel comune di Fossombrone e quindi insomma tante cose positive in un periodo, devo dire, triste per tanti motivi che conosciamo bene tutti però è stato un anno nel quale comunque l'amministrazione comunale ha continuato ad investire in restauri e i lavori perché crediamo fermamente che sia una cosa molto importante anche per il bene economico della città I tempi sono estremamente difficili come sappiamo la Fondazione ha dovuto fare interventi nell'ultimo anno per comprensibili regioni anche nel settore sanitario che normalmente non sarebbe un suo settore di competenza però ci sono anche gli ambiti sociali e culturali arte e cultura come diciamo noi che vanno assolutamente preservati quindi qui si è ritenuto che fosse assolutamente indispensabile Il presidente Marco Martelli ha portato in consiglio questo intervento il consiglio a unanimità lo ha immediatamente deliberato E questa sera su Rossini TV grande spazio all'Ital Service Calcio A5 infatti subito dopo questa prima edizione esattamente intorno alle ore 20 trasmetteremo in diretta la giornata numero 19 in cui giocherà appunto Ital Service Pesaro contro Color Max Pescara tutto in diretta su Rossini TV E poi ancora l'appuntamento a domani domani torna Casa Rossini avremo con noi Antonella Berluti che è insegnante di arti creative e poi ci sarà Enrico Rossi che è il sindaco di Cartoceto e poi da Cartoceto ci sposteremo a Montelabate con la sindaca Cinzia Ferri non perdetevi quindi la diretta alle ore 10 Mentre andiamo ancora avanti perché giovedì di questa settimana giovedì 11 febbraio alle ore 18.30 trasmetteremo in diretta dal Duomo di Pesaro la 29esima giornata mondiale del malato una celebrazione importante che chiediamo appunto di seguirla direttamente sul nostro canale televisivo e allora grazie come sempre in chiusura del nostro telegiornale il meteo e poi buona partita dell'Ital Service Grazie a tutti Grazie a tutti